L'hotel Fortuna si trova nel centro storico di Perugia in un antico palazzo del 1300. Il nostro personale, gentile e disponibile, saprà fornirvi informazioni sulla città, consigliarvi gli spettacoli e proporvi i ristoranti più caratteristici. Tutte le nostre 52 camere sono dotate di aria condizionata, telefono frigo bar, tv con ricezione satellitare, cassaforte e phone. Disponiamo anche di executive room dalle pareti affrescate e corredate di vasca idromassaggio o doccia sauna e balconcini privati. La colazione viene servita a buffet in una sala medievale con volte a crociera, originali del XIV secolo. A disposizione della clientela, una splendida terrazza panoramica sui tetti della città, una tranquilla sala di lettura con volte affrescate e un free internet point gratuito. Potrete giungere comodamente in hotel con la vostra auto e parcheggiare in un garage convenzionato o in una via adiacente con un nostro speciale permesso gratuito. Vi aspettiamo!